qui abbiamo anche qualcosa per l'uomo 820 dinali diviso 3 270-280 non finisce mai la sfilata meravigliosa questa è fantastica quelle donne possono sbizzarirsi sono tanti tipi di vestiti come mai tanti tipi per cerimonia per altre occasioni questa è per la mariage per le occasioni per il matrimonio questa è tutta speciale per la mariage sempre per il matrimonio bellissime guarda questa questa con la santura che cosa significa? la santura dentro ah la cintura dentro dentro c'è la questa cotone con la seta e questa questa satin seta questa seta questa cotone con la seta mixta mixta c'è la questa questa lana questa lana questa lana questa lettera dell'arabo questa è la moda moda araba si vabbè andro guarda questa guarda e lavora questa guarda 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 seta con la santura con la cintura si guarda questa questa con la santura dentro e questa la lavoro fatta a mano guarda carò guardo m guarda vai guarda 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 suga non le ti sono 10 ore 24 Grazie.